percorriamo la valle stura fino a ponte bernardo poi c'è la deviazione per murenz dove si lascia la macchina e da dove inizia il sentiero militare fino al becco rosso lungo sentiero vediamo tutte le opere ancora intatte e in alto vediamo la batteria del becco rosso la macchina e da dove inizia il sentiero 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.